Una giornata importante oggi a Bruxelles. Finalmente vengono discusse le istanze che Coldiretti ha presentato nell'ultimo anno in termini di semplificazione del lavoro per quanto riguarda i nostri agricoltori. 500.000 imprese agricole, medio-piccole, avranno una risposta in termini di semplificazione di carattere burocratico legata alla politica agricola comune. Contestualmente lavoriamo per quanto riguarda la moratoria dei debiti e per quanto concerne gli aiuti di Stato. Dobbiamo altresì semplificare ulteriormente quelli che saranno le certezze che dovranno riguardare i nostri imprenditori sia nella disponibilità di risorse economiche per la futura politica agricola comune ma partendo dalle esigenze nella valorizzazione del lavoro svolto nel contesto europeo e italiano sul tema dell'evitare che ci siano terreni che vengono lasciati a riposo e che favoriscono l'importazione di prodotti provenienti da altri continenti.